Bene amici, Sony Xperia 5 Mark II, mamma mia era dai tempi dell'XZ3 che non trovavo un telefono che mi piaceva così tanto un bel display OLED 120Hz e poi a tutto, jack per le cuffie, always on display, led di notifica, uscita video, audio stereo, impermeabile, resistente, cam grandangolare, cam zoom 3x cam normale ma soprattutto le dimensioni, guardate come si tiene bene in mano, avevo un po' un punto di domanda sulla batteria da 4000 mAh ora ma ci sono arrivato tranquillamente a fine giornata insomma mi è piaciuto proprio tanto, andiamo a scoprirlo insieme, l'unica cosa? La vibrazione, vabbè Eh sì, è un telefono che mi ha piaciuto veramente tanto, questo Xperia 5, partiamo dalla confezione che invece mi piace veramente poco per due motivi primo, c'è poco in confezione, secondo, il caricabatterie da 18W, lui potrebbe ciucciarne 21 e caricare del 50% in mezz'ora, così ci mette 40 minuti e la ricarica completa avviene in 1 ora e 20, perché non mettere un caricabatterie un po' più potente non lo so ma poi abbiamo il cavo USB di tipo C da entrambe le parti tra l'altro dalla tipo C esce anche il video tranquillamente, non all'interfaccia destro, mi scuso per le immagini perché è un nero assoluto ed è veramente difficile da riprendere poi riflette tantissimo e questo si riflette anche sulla scivolosità del telefono, è abbastanza scivoloso ma 8 mm di spessore, 163 grammi di peso e soprattutto 68 mm di larghezza, sta benissimo in mano allora ci sono tanti pulsanti qua su questo lato, il che è un Pro ma anche un po' un Contro allora un Pro perché ci sono i pulsanti per il volume, il pulsante accensione e spegnimento che ha inserito il sensore di impronta lo preferisco sotto ok ma anche lateralmente va bene e ci sono questi altri pulsanti questo è per l'assistente Google che anche ha display bloccato, se lo teniamo premuto che tempo fa oggi? vedete mi risponde e la cosa bella è che non dobbiamo fargli la domanda, cioè dargli la parola di attivazione ma basta tenerlo premuto e mollarlo quando si finisce di parlare poi c'è il pulsante per lo scatto doppia corsa, comodissimo perché ve lo faccio vedere subito telefono spento, anzi se adesso ho sfiorato lì ma telefono spento schiaccio il pulsante, metto a fuoco e scatto la foto ecco il pulsante di attivazione rapida il punto e scatta è veramente molto più veloce sia che io attivi la camera così, sia che io attivi l'assistente Google così il telefono comunque se non mettiamo il ditone lì rimane giustamente bloccato qual è il Contro di avere tutti questi pulsanti? che quando lo mettiamo nei supporti d'auto, nel supporto per fare video, quelli che pinzano beh, se andiamo a pinzare troppo potentemente, prepotentemente, possiamo andare a schiacciarli involontariamente vi dicevo, tipoci sotto, esce il video, qua c'è il secondo microfono scusate, qua c'è il cassettino per mettere o due sim o una sim più l'espansione di memoria e poi c'è il mio amato jack per le cuffie materiali buoni, vetro dietro, vetro davanti, un po' scivolosetto è molto oleofobico ma senza coverina veramente rischiati di farlo cadere bello il fatto che le cam posteriori non sporgano poi tantissimo, anzi sporgano poco e la configurazione è 12-12-12, classica che abbiamo visto anche sui precedenti Xperia grandangolare, 120 gradi, 3x, stabilizzatore ottico normale con lo stabilizzatore ottico e ovviamente c'è anche il flash e la messa a fuoco allora lo accendo, molto bello il display l'audio è stereo, quindi abbiamo due speaker è un po' old style il display ma non mi dispiace magari cambio sfondo per fare vedere come ci sia non ci sia né nocce, né tacca, né goccia, né niente la cam è là sopra, ci sono le due bande sopra e sotto che non sono assolutamente esagerate ma vi racconto come va ovviamente NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 APTX va tranquillamente Google Pay e anche il GPS è decisamente buono aggiornamenti, ho sbagliato menu in realtà non lo vedo lì ma lo vedo qua il livello di page di sicurezza agosto 2020 allora diciamo che Sony era prima della classe con gli aggiornamenti software ora è in media il software è comunque molto molto stock ma vi parlo di batterie vi faccio subito vedere gli screenshot della giornata stress molto stress ore 22-24 11% praticamente una scarica molto costante tanto 5G tanto Waze tanto Whatsapp tantissimo Instagram troppo Instagram qua i dettagli di utilizzo 36 minuti di chiamate vocali e 5 ore e 31 di display con l'11% molto molto bene qua l'istogramma di come ho utilizzato il telefono 392 notifiche mamma mamma mia quando leggo questi numeri mi cadono un po' le braccia poi ho attivato Stamina e l'ho usato ancora tanto perché guardate 6 ore e 15 alle 23.09 con il 5% e andava ancora bene cosa ho fatto in questa 45 minuti in più solito web qualche video qualche filmato però devo dire batteria bene anche perché mi piace molto l'attenzione di Sony sulla durata nel tempo della batteria perché la ricarica della batteria io l'ho messo su automatico ma può essere anche personalizzato perché si può ridurre e impostare una percentuale di batteria al quale stoppare la ricarica ma si può anche andare vedete qua c'è il limite della ricarica 80-90% a personalizzare la ricarica lenta poi la ricarica stabile l'ultimo pezzettino di ricarica per avere il telefono pronto a una determinata ora quindi veramente complimenti per questa funzionalità parlo di display vi faccio subito vedere le impostazioni dove la frequenza di aggiornamento può essere settata su 120 Hz mi piace tanto guardate la frequenza di refresh su un OLED alta è molto molto bello avete visto anche come è tarabile il display ma andiamo subito al sodo quindi andiamo a vedere le no non la voglio la vibrazione dinamica poi vi spiego perché le classiche immagini dei video c'è l'ottimizzazione proprio per la visualizzazione dei video 21 noni quindi perfetto per vedere i film quando si pizzica non ci abbiamo fori non ci abbiamo tacche mi piace anche questa cosa anche se ultimamente i fori sono piccolini quindi non mi danno sinceramente tanto fastidio ma veramente un bel display e poi ragazzi finalmente equilibrato finalmente non un 4k che è energivoro ma un full hd plus che su questa diagonale da 6.1 pollici ci sta alla grandissima cosa succede su netflix errore dispositivo ai 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 un problemino in diretta no non ve lo riavvio non rifaccio il video voi sapete i telefoni li provo dall'inizio alla fine senza mai tagliare proprio per questo motivo l'ho usato fino a ieri non so perché adesso mi dà un errore in realtà il software l'ho trovato sempre molto affidabile e netflix viene riconosciuto tranquillamente in full hd un po' conservativo il sensore di luminosità magari dovete tenerlo un pochino più alto però lui poi man mano lo usate inizia a capire le vostre preferenze ma bene sotto la luce del sole il display unica cosa che non mi piace sempre nel menu display mi sono dimenticato di farvelo vedere è questa cosa qua mi c'è un po' in tutti i sony il sensore laterale cos'è questa barrettina qua vedete che voi se trascinate potete accedere ad un menu e qua il menu vedete lo potete anche personalizzare un po' una vaccata perché si va a un po' inciuschiare con le gesture e quindi vabbè basta non usarlo chi se ne frega ve lo segnalavo perché a livello software c'è parte telefonica ok chiamiamo il 190 vi attivo il vivovoce alzo il volume al massimo vi ho detto di parlare della vibrazione dinamica allora altoparlante è qua e devo dire che si sente bene però è mono cioè quando utilizzate la parte in vivovoce gli altoparlanti non vanno tutti e due ma solamente questo sotto però la potenza è decisamente buona ok anche la ricezione anche in 5G stand alone e non stand alone quindi predisposto anche per le bande future ma quanto è veloce allo Snapdragon 865 828 ovvio che sia veloce è anche ben ottimizzato allora ben ottimizzato è un parolone ma per Instagram perché vedete altri telefoni su Instagram pam si beccano tutto il display e quindi voi quando fate una storia su telefoni che hanno il display molto lungo andate magari a mettere dei tag degli hashtag delle vostre scritte sopra e sotto ma chi ha un display invece 16 noni non vede questo invece qua va a compattare in modo da avere la compatibilità con tutti i telefoni questa è una piccolezza che però ho apprezzato veramente tanto e poi vi apro offerte.club 13.14 ottobre prime day scaricatelo perché vi segnaleremo un bordello di offerte e poi andiamo a vedere anche Twitter e poi cerco di essere ancora più veloce andiamo a vedere il gestore delle pagine beh l'avete capito è un telefono che gira molto bene cosa è successo volevo pubblicare qualcosa ho sbagliato io a tappare ciao Andrea come va la vita allora vibrazione Sony dovrebbe secondo me più che andare a concentrarsi su questa vibrazione dinamica assolutamente inutile anzi quasi fastidiosa perché ha un motorino dentro abbastanza potente fa vibrare un po' tutto anche la parte posteriore a me non fa impazzire questa cosa e il dinamismo che va in sync con non mi piace è una cosa degli ingegneri giapponesi però voi sapete dovete sapere una cosa l'ingegnere giapponese quando si mette in testa una cosa si incaponisce e quindi quella cosa deve portarla a termine anche se vabbè per Andrea Galeazzi la vacata ma cosa conta per un ingegnere giapponese Andrea Galeazzi preferirei Sony si concentrasse su una vibrazione aptica precisa questa è un po' rumorosa un po' mollosa non tremenda però non mi ha fatto impazzire Real Racing si avvia in 8 secondi e c'è questo che si chiama potenziatore del gioco dove possiamo registrare il gameplay a fare screenshot andare a ottimizzare cambiare il tipo di menu vedete qua tutte le ottimizzazioni che si possono fare poi si può andare in super prestazioni per aumentare ancora di più la velocità comunque già così gira tutto bene ho giocato anche Call of Duty in maniera perfetta veramente andiamo alla parte fotocamera e qua il mio amato pulsantino 3 cam grande angolare dicevo 124 gradi correzione delle discotorsioni angolari zoom no principale soprattutto a 12 megapixel e la zoom che ha 3x adesso qua siamo un po' troppo vicini per mettere a fuoco buzz ovviamente la zoom ha senso se andiamo a fare foto a oggetti lontani mi piace il 3x il 3x diciamo che è quel bilanciamento ottimale per non avere una camera periscopica quindi un blocchetto cam che sporge tanto ma comunque è un buono zoom ovviamente si può poi andare ad aumentare fino al 3x e quindi si arriva a 9x di zoom interpola poco perché 12 megapixel non sono tantissimi per andare a interpolare ma vabbè tant'è ci sono varie modalità tra cui Google Lens di fotopro ve ne parlo tra pochissimo qua il formato dell'immagine insomma vi faccio vedere un attimino le impostazioni quello che non mi ha fatto impazzire nella parte video è che se giriamo un video a qualsiasi risoluzione quindi anche in full hd 30 arriva fino al 4k può girare il full hd anche a 60 frame per secondo beh dobbiamo scegliere preventivamente la cam con cui girare perché se faccio zoom in e zoom out usa sempre la stessa cam poi devo stoppare posso a questo punto una volta stoppato usare la grandangolare ma preferisco il passaggio tra le cam vedete anche la grandangolare zoom a 3x ma sempre con la stessa fotocamera allora la modalità pro è proprio qua in foto pro come vedete l'interfaccia del menu è molto simile alle camere alfa io ho praticamente tutte camere alfa anche quella che sta girando questo video la conosco molto bene ma qua è quasi tutto diciamo manuale bisogna andare un pochino a smanettare nei settaggi ma non tanto foto pro che è ancora semplice da usare quanto cinema pro powered by cine alta ci sono dei vari look ci sono la possibilità di andare a cambiare un sacco di impostazioni qual è il problema che qua si lavora principalmente manualmente ho fatto un video con emaloru facendo proprio un video e un ragionamento su questa applicazione su xperia 1 mark 2 che ha praticamente lo stesso software le conclusioni sono che se uno deve essere pro beh deve essere pro e prendersi una macchina pro una fotocamera pro ha poco senso usare le funzioni pro che ci sono quindi questa non è una critica attenzione ma secondo me sono un po' inutili su un telefono il telefono è pam pam punta e scatta e il pulsante per il punta e scatta è top ma come vengono le foto ovviamente tutte scattate in punta e scatta ve lo faccio vedere subito questa è la foto grandangolare questa è la foto normale questo lo zoom qua ho sbagliato io a mettere a fuoco nel senso che ho messo a fuoco là in fondo ovviamente ci sono varie possibilità di scelta della messa a fuoco camera anteriore che mi è piaciuta è venuta fuori una bella foto qua ho da dire che c'era veramente tantissima luce qua grandangolare normale zoom massimo quindi 9x e anche qua comunque è venuta bene bocche naturale con la principale bene foto con poca luce molto bene questa qua nell'ascensore id3 ero alla presentazione anche qua con poca luce e devo dirvi che con poca luce soffre un pochino secondo me con tanta luce paragonabile top camera invece con poca luce c'è da un po' lavorare forse sul software sull'algoritmo non lo so è vero che qua situazione difficile perché macchina scura tanti contrasti questa è la foto grandangolare ma con poca luce insomma mi ha convinto un pochino di meno per quanto riguarda i video beh ve lo dicevo ve lo dicevo prima non c'è lo spostamento tra le cam bene però la stabilizzazione soprattutto con normale e grandangolare e ovviamente la camera zoom riesce a zoomare particolarmente bene anche i microfoni ma soprattutto molto bene l'audio in riproduzione Dolby Atmos è comunque settabile tarabile vi faccio sentire come si sente la solita canzone Tamarra l'audio stereo è buono mi piace come esce sopra sotto abbastanza bilanciato quello che non mi fa impazzire è che dietro il vetro vibri un po' però questo è sinonimo di potenza della cassa col jack cuff e poi vi potete attaccare la vostra cuffia analogica che bello col filo senza compressioni e il DAC interno lavorerà veramente molto bene per gli audiofili è un telefono da tenere in considerazione 899 euro costa non sono pochi ma sì allora ma sono pochi sono pochi i telefoni così potenti compatti affidabili equilibrati completi e piacevoli da usare ho usato veramente troppi aggettivi batteria ok un giorno stress bel display uso a una mano molto comodo molto comodo è un po' un trend però tornare al piccolo perché vedremo tanti telefoni piccoli da qua a qualche settimana impermeabile minimal il design ma bello insomma è un po' quel less is more che aspico da un po' e qui l'ho trovato anche se purtroppo non c'è nel prezzo vabbè mi è piaciuto molto un saluto da andrea galeazzi punto com un saluto da un saluto da un saluto da un saluto da